Aia, bobbina. Quelle rovo. Hai piantato la spina nel dito dell'ancoraggio. Sì, vanno. Ho due otto. Dovrebbe essere un otto a finissimo. A meno il binocolo della Lidl. Sono due otto a testa. La sera con noi si potrebbe essere distante. Porco. Ah, sei andato qualcosa e ti sei sfruttato. Puglione. No, ho detto che rimastiato. No, ho detto che rimastiate un testo. Ma questa cosa non cincere commento che riesco quando 25 anni ha raggiuntato e spostato juntos. Aaaaaah! Passo, passo, passo. Merda. 15. Angoli. Che bossa! Oh! Che bossa! Oh! Eh 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 eh! Oh! Eh eh... ... ... ... ... ... ... ... ... Allora, io ho 8, 46, meno male che tieni sul tezzo, 8 anche per noi, 8, 42, Alessandro 8, 43, Daniele 11, 47, quindi puoi sapere quanto stai? Non so che sono avanti, poi pianta un pezzone, va a fanciare, non direi questa cosa. Dai che sta registrando, non gli rifaro l'acce. È la più bella questa cazza. Grazie, grazie. Metti il muto, grazie.